Voglia d'estate? Voglia di offerte! Se vuoi rinnovare il tuo treno di pneumatici, approfitta della promozione L'Estate Raddoppia. Mishlen, in collaborazione con Marchesano Pneumatici, ti regala un buono carburante del valore di 20 euro per pneumatici da 15 pollici, 40 euro per pneumatici da 16 pollici e 80 euro per pneumatici da 17 pollici in su. Affrettati! La promozione è valida dal 14 aprile al 31 maggio. Marchesano Pneumatici, oltre alla sicurezza e alla durata dei suoi pneumatici, qualità e convenienza. Via Nazionale, Atena Lucana Scalo, a 200 metri dallo svincolo autostradale. Telefono 0975 71 212 Seguici anche su Facebook.